Gomez è un fenomeno ma sabato deve prendere le legnate. Parole e musica di Capitanza Andreani che dopo lo scialbo pareggio contro il Varese cerca di suonare la carica ai suoi compagni in vista di un appuntamento delicatissimo per il futuro rosso-blu in Serie B e soprattutto per la panchina di Pecchia, la gara del Barbetti contro il Verona. Un crocevia fondamentale dunque dove il Gubbio dovrà iniziare per forza di cose a creare il suo fortino casalingo, a giudicare dalla determinazione di Sandrani e Cottafava, ospiti ieri sera fuorigioco, la squadra sembra aver imboccato certamente la strada giusta. Non penso che non possiamo fare la categoria. Sei un po' arrabbiato per qualche messaggio? Sì, sei un cazzato. Sei un po' arrabbiato. Diciamo che sì, però è un motivo d'orgoglio, un motivo in più per far cambiare idea perché poi si cambia velocemente idea. Però è un motivo ancora in più di migliorare, di crescere e come diceva la salvezza quest'anno sarebbe una cosa incredibile e sono convinto che ce la facciamo. Bisogna vincere perché ogni volta si entra in campo per vincere e secondo me in casa deve essere proprio un obbligo perché se noi vogliamo salvarci dobbiamo costruire qualcosa di importante in casa. Io quando ho lottato per salvarmi le partite in casa erano determinanti, sono sempre state determinanti. Deve diventare un fortino che quando uno dice devo andare a Gubbio, dice cazzo devo andare a Gubbio, scusate l'offimismo, però a un certo punto è così. A prescindere dalla qualità dell'avversario. Ma sì, la qualità, se guardiamo le qualità delle squadre allora non entriamo nemmeno in campo. Noi abbiamo le nostre qualità e dobbiamo guardare in casa nostra, quindi col Verona è una partita importante. Contro il Verona dunque si dovrà fare attenzione al grande ex di turno Juanito Gomez, anche se rosso-blu per prima cosa, a prescindere da chi dovesse scendere in campo, al momento pare difficile un impiego dei Desaparesidos, Paonesse e Ragazzo, dovranno far prevalere la carica agonistica mancata in queste prime partite di campionato. Corriamo quanto gli avversari, ma probabilmente non basta, ha spiegato sempre il capitano Eugubino durante la puntata di fuorigioco. Testa, cuore e attributi, se ci saranno queste componenti, le gambe arriveranno di conseguenza.